ciao a tutti questa è una partita di team deathmatch come l'ha accentata lo speaker e stavo giocando insieme ad un mio amico americano e per ovvi motivi il ping non era non era molto ottimale né per me né per lui intanto questo ragazzo non lo so aku lightweight e dalla finestra cioè va bene ok d'accordo andiamo oltre ho velocizzato un po' il video per diciamo rendere più come dire più agevoli le mie escursioni nella mappa e niente dicevo lui un bravo ragazzo un ottimo giocatore io mi ritrovavo con 200 e passa di ping all'incirca tanto qui un giro turistico della mappa e infatti vedrete che sparerò molto cioè si vede l'avversario che muore ma io continuo a sparare e questo perché nel mio schermo lui era sempre vivo intanto qui fail fail nade questa è andata al segno solamente non so dov'era il tipo mi giro però dalla parte sbagliata e lui con le pistole mi saluta comunque abbiamo già capito il nesso della partita ovvero fare camping dentro quella stanzina bene qui invece iniziamo perché sarà una partita con un discreto se non dire un ottimo score e mi sono sorpreso anch'io si è sorpreso perfino shepard quest'altro ragazzo che in questo momento non sta giocando perché non so stava chattando o si stava bevendo uno di quei intrugli che si fanno là in america intanto vi lascio godere questa scena cioè quel ragazzo non so cosa non so cosa ecco cioè non lo so lui si è messo lì e io ho tirato dritto credeva che io tirassi dritto così cioè cosa ci sono a fare le squadre se poi non ci uccidiamo a vicenda ecco lui per dire mi ha sciottato malamente quando invece nella kit cam si vede che spara tipo tre colpi per pistola ma io ne vedo solo uno e niente questo si è alzato in un battito di ciglio qua si ritorna con il jammer ed ancora il ragazzo non è entrato in azione ma intanto abbiamo visto uno che corre non torna indietro e allora allora andiamo a prenderlo oi ma cos'è quella luce rossa dai ma che cazzo stai a fare cioè mi metti il c4 sulle scale poi stai lì a guardar che boh e vabbè d'accordo e quindi intanto granata e poi arriva eccolo ovviamente grazie al ping non riesco a ittarlo lì intanto ho fatto una transizione solamente perché non volevo guardarmi la kit cam per vedere in che modo cosa era successo di preciso qui invece diciamo cioè più che diciamo secondo me se l'è ammoscata parecchio perché ce l'ho inculato bene bene mi dispiace di dirlo ma si ce l'ho inculato bene bene intanto i miei compagni che mi accoltellano così qui invece non non lo so è stato tutto troppo veloce non sono riuscito neanche a vederlo quest'altro smg rapid fire che cioè tenta di fare i long shot non si sa bene anche qui perchè questo altro ragazzo che muore quando è dietro il camion grazie ping per una volta ecco qui voi credete che sia camping ma invece non lo è comunque per tornare a parlare un po' di shepard nella descrizione troverete il suo canale e vi consiglio vi consiglio intanto lui molto molto badly e nuovamente il ragazzo lightweight conaku in un angolo e qui si è beccato due parole qui intanto questo drop shot con un po' di fortuna mentre questa è tutta skill e se non avete capito bene lo vorrei ripetere ma poi la mia modestia ne risentirebbe e quindi qui intanto mi hanno detto che sono che ho detto delle belle parole io ho risposto e mentre rispondevo un ragazzo è passato a corsa non mi ha neanche visto lui poi come si permette di fregarmi i kill quello era il tizio è passato a tutta corsa prima ecco nuovamente certo che non so è un mostro nei drop shot ecco riesco a definirlo solo così perché o forse sarà nuovamente il ping intanto la coltellata che arriva un attimo dopo e poi questa scena sarebbe cioè sarebbe lo è epica perché c'è questa fuga immensa da 3 e riesco anche a killare killare un tipo e poi volano flash a destra e a manca questo ghost non mi ha visto e ne paga le conseguenze di qua un altro ghost con balestra e poi peccato che il primo abbia fatto da scudo umano al secondo e a quello più lontano ecco intanto qui cioè io aspetto per vedere se arriva qualcuno non arriva nessuno il tempo che esco e subito shepard mi secca quel ragazzo disteso con watt 2000 fa esplodere una macchina un arsi che speravo andasse addosso a shepard oddio anzi che lo uccidesse invece mi è toccato sforgiare sforgiargli sforgiargli un po un po di salto e poi qui una scena bellissima tento di restarlo ma ancora shepard a sinistra a destra no io ho visto le gambe di qua corri 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 e corri e poi poi niente perché il knife non arriva arriva prima il suo ma comunque quella è stata veramente veramente stupenda direi esilarante mi sono veramente divertito un casino e intanto la partita sta per concludersi ah ecco volevo dirvi andate a vedere il suo canale lo trovate nella descrizione perché ci sono molti video divertenti devo ammettere almeno a me fanno veramente ridere e li trovo non li trovo neanche così stupidi ecco detto questo un saluto a tutti alla prossima